Mottino, tre punti importanti che fanno il paio con quelli ottenuti la prima giornata, pietra, punteggio pieno, non si poteva iniziare in maniera migliore. Beh sì, certamente abbiamo iniziato colpio giusto, anche quest'anno come l'anno scorso, in merito della preparazione che ogni anno facciamo, che ci spreme già ad agosto, e siamo soddisfatti così e l'importante è continuare su questa striscia positiva. Le tue condizioni, sei uscito prima del fischio finale, come stai? Mi si è girata la caviglia a fine secondo tempo, adesso è un po' gonfia, ma spero di recuperare per la domenica prossima. C'è grande entusiasmo nella squadra, abbiamo visto esultare a fine partita, questo pietra dove può arrivare? Sì, siamo un bel gruppo, anche quelli appena arrivati sono inseriti subito al meglio, non ci poniamo obiettivi, ogni domenica entriamo in campo per vincere e vediamo dove riusciamo a arrivare. Domenica è una partita difficile con il rappallo, che gara ti aspetti? Sicuramente da martedì inizieremo già a pensare alla pallo, sarà dura come sempre, però so che sicuramente il ministro preparerà al meglio come il suo solito fare e sicuramente andremo là per vincere.